Radio Streghetta, l'oroscopo. Buongiorno a tutti dalla Rinascente del Centro Servizi a valore aggiunto. Visita il nostro sito www.cartomantieuropei.it e ascolta il tuo oroscopo di oggi. Ariete! Concentratevi sul da farsi, evitate di ribadire sempre gli stessi concetti e lavorate. In amore, momento di caos. Toro La sincerità prima di tutto, vi relazionerete con le persone che vi circondano in maniera assolutamente spontanea. In amore, attenzione a non diventare antipatici. Gemelli Giornata serena, la compagnia giusta lieterà lo scorrere delle ore e il tempo sembrerà passare molto velocemente, soprattutto durante la mattinata. Sentirete vicino le persone più care e questo vi darà la voglia di organizzare qualcosa di nuovo. In amore, la lontananza fisica verrà compensata da quella mentale. Cancro Il momento di stallo, il solito dinamismo, vi abbandonerà per lasciare spazio e dubbi. Reagite! In amore, problemi da risolvere. Leone La giornata di oggi, cari amici, devo dire che per molti di voi non inizierà in maniera perfetta, ma a metà giornata una stersata di fortuna vi ridarà il sorriso, portandovi a creare anche delle belle idee che già dai prossimi giorni vedrete voi come dare forma e misura per la sua realizzazione. Vergine Vergine Non vedrete l'ora di iniziare la settimana. La pesantezza di una situazione che state vivendo si smorzerà grazie all'impegno lavorativo. Starete a contatto con persone che vi aiuteranno a rilassarvi senza pretendere da voi la perfezione. In amore, starete lontano da possibili coinvolgimenti emotivi. Bilancia Sentirete il fiato sul collo. Qualcuno sul lavoro sembrerà controllare il vostro operato con eccessiva attenzione. Ignoratelo. In amore dovrete limitare le vostre pretese. Scorpione L'indecisione regna sovrana. Tra i tanti che vi circonderanno dovrete scegliere di chi fidarvi. In amore farete soffrire qualcuno. Sagittario Evitate di fare i calcoli. Le cose andranno bene se sarete voi stessi senza porvi limiti in amore. Sorprendente qualcuno vi stupirà. Capricorno Vorrete fare qualcosa? Non riuscirete a stare con le mani in mano. Eppur di inventarvi un'attività cercherete di adoperarvi al fine di trovare la gratificazione che state cercando. Qualcuno potrebbe sfruttare a proprio vantaggio la vostra voglia di fare in amore. Dovrete iniziare a fare e a dare se avete in mente di ricevere. Acquario Un piccolo progetto prenderà corpo. Valuterete tutte le possibilità di sviluppo di un'idea che vi frulla in testa già da un po' di tempo. Se ne parlerete con qualcuno troverete il consenso che vi serve per far decollare definitivamente l'avventura. In amore cercherete di meditare in una situazione di difficile soluzione. Pesci Verrete coinvolti in una lite che non ha nulla a che fare con voi. Farete quindi finta di nulla. Non vi sarà di aiuto. Dovreste fare appello a tutta la vostra capacità diplomatica per tirarvi fuori da quello che rischia di diventare un vero e proprio guaio. In amore troverete un porto sicuro che vi difenderà e vi tutelerà. Grazie Grazie